Come guadagnare soldi guidando la nostra macchina? Ovvero andremo a riparlare di Natix Network? Ma come monetizzare? Come prelevare? Effettivamente, realmente, possiamo guadagnare guidando? Benvenuti a tutti amici su Guadagnare Facile Gratis Prima di tutto vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale, di accendere la campanellina delle notifiche Avete fatto? In descrizione vi lascio il link del canale Telegram Riguardo il link da affiliazione per la registrazione a Natix Facciamo così ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti il link E io vi darò il link aggiornato per la registrazione al network In molti aspettavano questo video Anche perché effettivamente quando è uscito questo progetto DePin Sono stato uno dei primi a portarlo nel mio canale YouTube Il video ha riscosso molto successo di sei mesi fa ragazzi E in molti mi avete scritto Sì ma com'è possibile monetizzare? Effettivamente si può monetizzare da Natix Network? Ebbene sì ragazzi È ora possibile monetizzare con Natix Network Ovvero attraverso i token che siamo andati a generare guidando Possiamo effettivamente ad ora trasferire questi token Perché il token è stato listato su numerosi exchange Dando uno sguardo al token ragazzi Ad ora siamo allo 0,001 centesimo a token Il token è stato listato su numerosi exchange Ovvero andiamo a vedere qualche checks Gate.io Kucoin MXC Coinlist Pro E altri vari exchange Come possiamo vedere l'andamento del token non è affatto male E dal momento dei suoi vari listing ha totalizzato ad ora un più 12% Ma ora non staremo qui a fare un'analisi tecnica del token Quello che ci interessa a noi effettivamente è il funzionamento di Natix Network E se volete andare a vedere bene il tutorial su Natix Network Ovvero come guadagnare mentre guidiamo Ovvero come attivare la nostra dashcam sul nostro telefonino e generare token Naturalmente vi rimando al video precedente ve lo linko qui sotto Però ora effettivamente andiamo anche un attimo a rivedere un pochettino che cos'è Natix Network Natix Network è un progetto innovativo che mira a creare una mappa dinamica del mondo Utilizzando milioni di telecamere già esistenti Tra cui smartphone, droni e telecamere IP L'idea è quella di trasformare questi dispositivi in super sensori Capace di raccogliere informazioni utili in tempo reale Rispettando a contempo la privacy degli utenti Ma cosa significa tutto questo? Immaginate ragazzi un mondo dove ogni telecamera può monitorare il traffico Rilevare la disponibilità di parcheggi O segnalare la presenza di pericoli E tutto questo è reso possibile grazie alla tecnologia AI di Natix Che anonimizza i dati raccolti e li rende utilizzabili per applicazioni smart city e mobilità urbana Ma come funziona il modello Drive to Earn di Natix? Andiamo a dargli un piccolo sguardo Il concetto è molto semplice Basta posizionare il proprio smartphone sul cruscotto dell'auto E iniziare a guadagnare raccogliendo dati mentre si guida È un sistema ragazzi simile al concetto Play to Earn Però in questo caso è un Drive to Earn Questo modello non solo incentiva le persone a contribuire alla mappa dinamica Ma permette anche di guadagnare criptovalute senza il bisogno di hardware aggiuntivo E il futuro di Natix ragazzi sembra promettere bene Perché è uno di quei progetti dei pin sull'occhio del ciclone Ma ora passiamo alla fase fondamentale Ovvero come funziona il tutto? Come possiamo monetizzare? Come prelevare i nostri token che abbiamo guadagnato all'interno di Natix? Andremo ad utilizzare un wallet in DeFi Da agganciare al nostro account Natix Quindi non vi preoccupate ragazzi Andiamo a fare questo bellissimo tutorial Su questa applicazione molto ma molto interessante Ed eccoci amici miei all'interno di Natix Andiamo a vedere che cosa è cambiato È cambiato pochissimo dall'ultima volta Ragazzi vi ricordo vi lascio il link qui sotto Se volete andare a vedere proprio effettivamente L'installazione del telefono È come genera Natix i token mentre guidiamo Comunque qui avremo tutte quante le missioni Quindi possiamo andare a partecipare alle missioni E guadagnare più token e più punti Oppure ragazzi possiamo fare lo start earning Fate conto che stiamo in macchina Quindi facendo lo start earning Noi effettivamente possiamo andare a generare i token Ora qui effettivamente io sono nella mia cameretta Scusate il casino totale Però effettivamente qui abbiamo il display on Possiamo attivare la dashcam ok E in sostanza possiamo fare lo start navigation Quindi andando ad utilizzare lo start navigation Potremo andare ad accedere a una sorta di maps Dove metteremo il nostro punto di partenza E il nostro punto di arrivo Ragazzi semplicissimo Quindi naturalmente qui abbiamo il display off e on Possiamo selezionarlo o deselezionarlo Per esempio se faccio turn on o posso fare turn off Naturalmente per sprecare meno batteria del telefono Quindi appena lo mettiamo in questo Ecco qui ora non si vede perché c'ho In questo modo qui Naturalmente prenderemo la camera dietro posteriore Quella naturalmente che funziona anche meglio E possiamo andare a accendere il display o spegnerlo Ok in sostanza Natix da quel punto in poi Ci andrà a generare i token Effettivamente ci andrà a generare i token Ora vi faccio vedere quanti token sono riuscito a generare io Tutti i token che sono riuscito a generare ce l'ho qui sopra In alto a destra abbiamo tutti i nostri token generati Ovvero io ho generato 15.390 token all'incirca E 95 gemme Ma prima di andare a vedere come effettivamente monetizzare E naturalmente fare il withdraw su Natix Andiamo un pochettino a vedere come funziona il sistema di affiliazione Perché è importantissimo anche quello per guadagnare Quindi andando qui sopra in alto a sinistra possiamo andare a fare In vita abbiamo anche sezione market missioni E market possiamo andare a spendere effettivamente i nostri token Allora su invita andiamo a vedere il sistema referral In sostanza qui abbiamo la possibilità di invitare i nostri amici Ogni settimana ci verranno abilitati 4 link diversi Per ogni link in sostanza possiamo utilizzare ogni link ogni amico Quindi non possiamo utilizzare un link unico per iscrivere persone Dobbiamo andarli a cambiare E qui avremo la mappatura di tutte le persone che abbiamo invitato Naturalmente riceveremo anche noi dei compensi in token Più persone invitiamo, più persone generano, mappano strade E più generano token e più noi guadagniamo in modo passivo Io da un bel po' che non uso l'applicazione perché sono rimasto un po' indietro con l'aggiornamento dell'applicazione Ma ragazzi questo video è veramente d'oro Quindi ritornando indietro abbiamo anche sezione missioni Che abbiamo visto anche un pochettino all'inizio Quindi qui a secondo dei chilometri che mappiamo e quant'altro Potremmo accedere a delle emissioni e quindi a dei token aggiuntivi Sezione market che effettivamente è dove possiamo andare Ad ora per esempio in fase embrionale sembra Ok Qui possiamo andare a mettere dove ci troviamo Andiamo a vedere subito insieme Italia Abbiamo qualcosa? Sì qualcosa abbiamo Effettivamente ecco qui Possiamo andare a spendere Abbiamo sconti quindi in sostanza sulle nostre spese Per diciamo questi prodotti qui Electronics Depin e quant'altro sull'electronics Avremmo questi gadget Per esempio se abbiamo 5 gemme Possiamo accedere al 20% di sconto Molto interessante Ok Ma lasciamo un po' questa cosa Andiamo effettivamente a vedere come effettivamente fare Prelevare i nostri token che abbiamo guadagnato Quindi andando qui sopra in alto a destra Abbiamo la sezione hold Abbiamo la sezione withdraw Quindi su withdraw noi clicchiamo su withdraw E praticamente qui ragazzi Ora ho collegato il mio wallet phantom Ok Naturalmente qui dobbiamo collegare un wallet Con rete solana E io ho il mio wallet già collegato Quindi ho installato l'applicazione phantom Ora andremo anche a vedere un attimo un pochettino Phantom wallet Poi vi farò un tutorial solo per phantom wallet Tranquilli ragazzi Però effettivamente qui possiamo andare a collegare il nostro wallet Faremo next una volta collegato il nostro wallet E ci dirà in sostanza di abilitare lo smart contract su phantom wallet Una volta abilitato abbiamo la possibilità di trasferire i nostri natix token Ovvero io ce n'ho oltre 15.000 E in sostanza andare a mettere il totale dei token che vogliamo prelevare Quindi cliccando qui sopra il totale dei token prelevabili Attenzione ragazzi su phantom wallet Su un wallet che può integrare natix Ma naturalmente quando farete questo passaggio Ve lo dirà lui di andare Quale portafoglio utilizzare Di andare a installare e creare un wallet Bisogna avere isolana come gas fee Ragazzi ok Effettivamente bisogna avere solana come gas fee Perché se no la transazione non andrà a buon fine Quindi detenere un pochettino di isolana all'interno del vostro wallet Oppure possiamo fare un instant withdrawal Però naturalmente questo instant withdrawal Avrà un effetto burn del 30% Quindi una percentuale molto alta Però se vogliamo andare a vedere il nostro importo Subito all'interno del nostro phantom wallet Ragazzi bisogna fare l'instant withdrawal Altrimenti c'è da aspettare un pochettino Poi qui ci va a dire che se Solana si trova in una fase di concessione Naturalmente bisogna ripetere il withdrawal Quindi non ci sono problemi Quindi facendo il withdrawal normale In questo caso i miei token verranno rilasciati Cioè praticamente i token Detto in parole povere Li possiamo trovare all'interno del phantom wallet Per il 25 ottobre Facendo un instant withdrawal Avremo i token in modo immediato Io naturalmente vi sto facendo il video Quindi ragazzi un bel like Iscrivetevi al canale Anche solo perché vado a spendere i miei token per voi Detto ciò amici farò conferma Ci sarà da inserire l'OTP Dalla nostra email di registrazione Nel nostro numero di telefono Farò conferma Ed ecco qui che avrò ricevuto i miei 10.000 E passa token in modo immediato Naturalmente tutto questo se siete disposti a pagare Il 30% di burn sul totale Qui ora sulla sezione history Possiamo vedere tutti i nostri wide draw E qui abbiamo naturalmente questo di adesso Sono stati burnati 4.618 token Ed eccoci amici che come per magia All'interno del nostro phantom wallet Avremo i nostri natix network Ad ora un totale di 11 dollari E qualcosa Quindi diciamo se non pagavo il burn Ne erano qualche dollaro in più Quindi ragazzi io senza far nulla Comunque feci un video 6 mesi fa L'ho lasciato lì Se naturalmente invitavo gente nel modo corretto Effettivamente potevo farci dei bei soldini Quindi ragazzi Queste sono progetti dei pin molto interessanti All'interno del nostro Ora phantom wallet Avremo i nostri natix network Che possiamo inviare Possiamo scambiare Naturalmente possiamo utilizzarli Anche per fare uno swap Per esempio Voglio scambiarli in una stable coin Posso utilizzare naturalmente L'USDT Gli USDC Ok per esempio Ora vado a scambiare i main natix In USDT E posso effettivamente fare lo swap Quindi farò max Tanto per farvi vedere E riceverò in questo caso 10 USDT Ora ho i miei asset in stable coin Detto ciò amici Video super Come guadagnare guidando la nostra macchina Abbiamo visto che effettivamente È possibile Condividete il video con più persone Naturalmente abbiamo fatto un bellissimo tutorial Vi lascio i miei link Di affiliazione qui sotto Li andrò a cambiare Oppure venite dentro la community telegram Dove vado a trattare Di guadagno online Delle ultime promozioni disponibili Tutto ciò che ci fa guadagnare soldi In modo completamente gratuito E i tutorial di strumenti Che andiamo ad utilizzare Come anche in questo caso Abbiamo fatto un bel video tutorial Poi vi farò un video tutorial Sulla funzionalità di phantom Proprio del wallet Se ne avete bisogno naturalmente Ma penso che alcuni di voi Ne avranno bisogno Detto ciò amici Noi ci salutiamo qui ragazzi Un bel like Ciao a tutti